Ciao amici dell'Insaziabile, siamo venuti al Festival del Formaggio di Campo Tures. Eccolo qua, siamo in Alto Adige, terra di tradizioni, gusto e naturalmente di grandi formaggi, ma qui a Campo Tures, al Festival del Formaggio, sono arrivati formaggi da tutta Italia e anche oltre. Abbiamo scoperto, intanto, tanta voglia di ripartire, tanta voglia di ricominciare proprio da manifestazioni come questa in cui gli addetti ai lavori, il pubblico, i curiosi, gli appassionati e anche gli insanziabili si danno appuntamento per tornare a parlare di formaggio e abbiamo avuto la conferma che l'Italia è una terra di grandi formaggi. Abbiamo assaggiato, abbiamo visto, abbiamo scoperto, abbiamo parlato con i produttori e abbiamo avuto la conferma che il formaggio è la linea realtà più corta fra la tradizione e il gusto. Quindi, adesso noi siamo tornati qui, torniamo a parlare, torniamo ad assaggiare. Voi state con noi perché vi raccontiamo tutto questo sull'insanziabile. Un gran bel festival dei formaggi in una valle piena di storia, tradizioni, paesaggi incantevoli e naturalmente uno scrigno di gusti e sapori davvero invidiabile. Il Festival del Formaggio di Campo Tures propone molti formaggi e tipicità locali a partire dal mitico Grauchese, passando per produzioni di nicchia ed eccellenze varie. E non mancano i prodotti di capra che da qualche tempo a questa parte sono di grande interesse. Ospiti dalla manifestazione, caseifici e produttori da tutta Italia, dalla Calabria al Veneto, con la Lateria Perenzin per esempio. Una menzione d'onore merita il Montebore, antichissimo cacio piemontese dalla forma inusuale e dalla storia suggestiva che vi racconteremo a breve sull'insanziabile. E poi spazio alle degustazioni, agli approfondimenti, ai focus su formaggi e prodotti tipici. Il tutto inserito in un gran bel contesto, con i ristoratori della valle pronti a mettere sul piatto le ricette tradizionali a base di formaggio. Insomma, un festival per veri insaziabili da non perdere, assolutamente!